Ciao ragazzi e benvenuti su Gassiub Drums Nel video di oggi insieme a strumentimusica... strumentimusicali.net voglio andare a farvi vedere quello che secondo me è il miglior acquisto che possa fare un batterista Oggi non vi voglio parlare di una batteria, non vi voglio parlare di un rullante, di piatti, di bacchette, di niente di tutto questo Voglio parlarvi di una cosa completamente diversa dalla batteria ma che serve ovviamente a noi batteristi E secondo me, dato che ogni tanto mi chiedete cos'è che posso comprare o questo budget qua, cos'è che posso prendere e perché mi serva Ecco, vi faccio vedere cosa potete prendere per star tranquilli più che altro e per dire Ok, non ho comprato una batteria, non ho comprato un piatto eccetera, ma ho comprato qualcosa forse di ancora più utile Dovevo prendere il taglierino... ecco qua, vi apro una parte, poi oggi ci sono uno, due, tre, quattro pacchi Sì, quattro pacchi più uno già scartato, poi vi spiego il perché E in pratica vi faccio vedere di cosa si tratta Allora, per prima cosa figata che mi è arrivato anche il magazine che magari giro giusto Smag, il nuovo magazine di strumentimusicali.net, super interessante Comunque, a parte questo, ecco qua di cosa vi voglio parlare oggi Ne ho aperto uno a caso, ma comunque almeno capite di cosa si tratta Poi partiamo, mando la sigla, faccio tutte le cose eccetera eccetera Da-dan! Ecco qua, hard case Queste qua, praticamente, sono delle borse, diciamo, super potenti per batteria Questa, ad esempio, è la borsa per il doppio pedale E queste sono quelle che vi salvano la vita Perché è la miglior cosa che un batterista possa acquistare? Perché molto spesso compriamo le batterie anche da migliaia di euro eccetera eccetera E poi quando le portiamo in macchina, quando le portiamo in giro Le portiamo o nei cartoni, oppure in delle borse morbide eccetera Quindi, minimo colpo che prendono, queste si rompono o comunque si scheggiano e non è bello Queste costano ovviamente un pochettino di più delle altre borse Ma ce le avete a vita Io ho un hard case per aste, che dopo ve lo faccio vedere E quello ce l'ho da anni e sembra ancora nuovo E più che altro non ho mai rotto nulla Quindi questa è quella del pedale E più che altro volevo farvi vedere di cosa vado a parlare oggi Quindi, questi sono i miei scatoloni Pian pianino andrò a mettere tutta la mia batteria all'interno degli hard case Perché hard case esiste per tutto quanto Quindi, tamburi, piatti, cose E basta, io mando la sigla Ringrazio strumentimusicali.net per avermi mandato tutta questa roba Ci spostiamo di là e andiamo a imballare la nostra batteria Quindi, come vi ho detto, partiamo proprio dal pedale Questo è un hard case per doppio pedale Io disso... Di solito il doppio pedale non lo uso Uso il singolo Ho deciso di prendere il doppio giusto per farvelo vedere Ma esiste hard case sia per doppio pedale Sia per pedale singolo, eccetera, eccetera, eccetera Allora, qui avete la possibilità di inserire il vostro pedale Direttamente all'interno di hard case O fate in questo modo qua Ma non ve lo consiglio Il consiglio che vi do è quello di togliere la molla Facendo così Il pedale va giù Lo mettete all'interno del vostro hard case Ed è perfetto all'interno Quindi qua, come vi ho detto, è per doppio pedale Quindi, teoricamente, ci sarebbe anche l'altro pedale qua Poi potete mettere tutte le varie aste, vitine, eccetera, eccetera Che vi servono per il pedale E siete a posto Il pedale è stato fatto Chiudiamo tutto Abbiamo la nostra manopola Super resistente Con doppia vite di qua Doppia vite di qua Quindi non si romperà mai E avete il vostro pedale a posto Adesso passiamo ai tamburi Direi, no? Quindi vado a prendere un altro scatolone Un po' più grande stavolta Allora, vediamo qua cosa c'è Perché sinceramente ho due L'ho aperto al contrario? Ah, adesso ho capito Ah, ecco qua Ho l'hard case per il mio timpano Direi Vediamo un po' Perché qua praticamente Io sono andato a prendere un set Perché ci sono i set già fatti Di hard case Per i miei tamburi Quindi qua direi che siamo sul timpano Come potete vedere Qui dentro Non so se si veda Probabilmente così si vede Anzi, ve lo faccio vedere da sopra Qui dentro Come potete vedere Ci sono anche dei gommini protettivi Che in pratica vanno a proteggere Dove appoggia il timpano O il vostro tamburo comunque Quindi molto semplicemente Prendete il vostro timpano Togliete i piedini Che poi andremo a metterle In un altro hard case Così non si rovina niente Prendiamo il nostro hard case Gli appoggiamo il timpano dentro Ecco qua Perfettamente in sede Questo glielo andiamo a mettere sopra Come vedete La parte sopra del hard case È un po' più grande Di quella sotto Quindi va a Inserirsi perfettamente Qui poi Tiriamo in modo tale Da chiudere perfettamente tutto Ed ecco qua Che anche il nostro timpano È stato inserito Perfettamente All'interno del nostro hard case E lo appoggiamo qui Sono un po' sudato Perché fa un po' caldo Fare questi video Con i pantaloni lunghi Un po' Mi accalda Allora 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 In questo nuovo scatolozzo qua Qui non ve lo tiro sul Perché altrimenti Rischierei di morire Qui abbiamo ovviamente Tutto il resto Di hard case Allora Partendo Dalla cassa Scatolozzo Allora Lo lascio qua Direi che lo vedete Un pochettino Dalla camera sopra Qui dentro Io ho tutti gli altri hard case Quindi vado ad aprire Tutte quante Allora Prima cosa Quest'hard case qua Rullante Rullante da 14 pollici Ovviamente Essendo così Che va su e giù In questo modo Come potete vedere Come avete già visto Sul timpano prima Va bene Da Rullanti Rullanti da 3 pollici e mezzo Fino a rullanti Da spessore 8 pollici Eccetera Non so quanto Sto sparando a caso Ma comunque Siete super tranquilli Il mio è un rullante Da 14 per 6 Guardate come ci sta bene Quindi Io faccio così Metto qua E sono praticamente A posto Poi tra l'altro Questo giallo e nero Di hard case A me è sempre piaciuto Un sacco Devo dire Anche rullante Fatto Andiamo avanti Qui abbiamo Teoricamente Direi I due tom Che saranno uno Dentro l'altro Io ho preso Tom da 10 Tom da 12 Come sono I miei tom Normali Ho fatto una cavolata Raga Ah no Ecco perché Ho capito Non ho fatto giusto In realtà Mi sa che ho preso Anche il 14 Perché io ho anche il 14 Di timpano Quindi avevo preso Anche il 14 Comunque Questo qua È il mio 10 Quindi Prendo il mio tom da 10 Lo metto qui all'interno Ci sta perfettamente Anche se io ho questa vitina Ci sta perfettamente Non è per niente Un problema Vado a inserirlo Qui Chiudo Tom da 10 Fatto Lo mettiamo qua È anche super veloce Come cosa Tra l'altro Tom da 12 Vediamo questo Mettiamo qui Chiudiamo come al solito Ah l'ho fatto al contrario Che stupido Quindi tutti i miei tamburi Sono stati Archeizzati Come si dice Vabbè Imballati Diciamo A prova veramente Di bomba Cioè Questo Non patisce niente Non patisce niente Questa cosa Ma pensate a fare questa cosa Su una borsa Di quelle morbide Allora Vado ancora a prendere Dato che l'ho preso Il mio timpano Da 14 pollici Avevo preso l'archese Anche per lui Molto bene Va benissimo Allora Mettiamo l'hard case Anche a lui Anche 14 fatto Fatti tutti i tamburi Mettiamolo qui Così si vede anche Un po' dall'alto È bellino Vabbè Facciamo cassa Quindi No Togliamo già tutto subito Questa cosa Questione cassa Facciamo così Mi vedete Dalla camera in alto Perché altrimenti Diventa un problema Allora Questione cassa Senza rompere niente Vado a metterla qui all'interno Ovviamente Hard case da 22 pollici Quindi Ci sta in maniera Perfetta E anche la mia cassa È stata fatta La cosa molto interessante Di hard case Come potete vedere Qua Ha questa croce Fatta in questo modo qua Perché se voi Andate a posizionarli Sopra gli altri case Che hanno la croce Anche sotto Vanno a collegarsi Perfettamente Uno all'altro Quindi Vedete che non si muove Perché sono proprio Attaccati Sono ben saldi Uno all'altro Io lo posso fare Posso fare la pila alta Quanto voglio Anche perché tanto Comunque Essendo Così potenti Non patiscono Neanche se li carichiamo Degli altri tom Altra cosa Molto importante Di questa hard case Qua Della cassa È questa Ha le ruote Quindi io lo posso portare Tranquillamente Con le ruote In giro Per il mio studio Facciamo così però Adesso le ruote Qui non le posso usare Perché è un po' piccolino Molto bene Ho fatto la mia pila Di hard case Che potete vedere lì Non si vede proprio tanto Ma È lì Adesso vado Mi risiedo Perché non è male Sedersi Adesso vado a prendere Quest'ultimo Pacco Qua da aprire Che è l'hard case Dei piatti Non sto a dirvi troppe cose Ve lo prendo direttamente Quest'hard case Qua Come potete vedere Ha anche Le ruote sotto In modo tale Da portare i piatti Come vogliamo Ha questo Che Si alza Così da poter Portare i piatti Tranquillamente Al suo interno Ha questa vite qua Che si gira Faccio sempre vedere Dalla camera Dall'alto Apriamo All'interno Abbiamo tutti gli scompartimenti Come potete vedere C'è anche un'altra vite Per tenere meglio E il consiglio che vi do È quello di partire Dal piatto più grande Quindi nel mio caso Il ride Ma penso nel caso Più o meno di tutti Si mette il piatto Si mette una divisione Si prende l'altro piatto Lo si mette Qui Si mette un'altra divisione Si prende l'altro piatto Andate sempre dal più grande Al più piccolo Vi consiglio Nuova divisione E poi Infine Il charleston Eccolo qua Si mette il charleston Qui Vado a mettere la divisione Ma questa volta Un pochettino più piccola Quella apposta da charleston Quindi questa qui Più piccola Poi ne abbiamo Un bel po' Vado a mettergli L'altro piatto Gli metto La nuova divisione E chiudo Quindi anzi Chiudo prima Con una vite In modo da fermare bene Tutti i piatti Mi sono anche allontanato Un po' Dalla videocamera Ahia E poi Chiudo tutto Vado a mettergli L'altra vite E sono pronto Per partire Qua ho messo Un ride Due crash E un charleston Ma in realtà Ci sarebbero ancora Stati dei china Dei crash Degli altri charleston Splash Quello che volevo Almeno Otto piatti Qui ci stanno Tranquillamente E ovviamente Pesa un pochettino Perché sono piatti Ma abbiamo le ruote Quindi siamo tranquilli E possiamo portare in giro Dove vogliamo Volendo sta anche dritta Voi non la vedete Ma ve la faccio vedere qui Volendo Sta anche dritto L'hard case E siamo a posto Anche con i nostri piatti Infine Questione aste Allora Questione aste Io come vi ho detto Ce l'ho già L'hard case Delle aste Quindi Eccolo qua Questo è l'hard case Che uso io Ovviamente Come potete vedere Non è nuovo come gli altri Perché questa case qua Avrà credo almeno 4-5 anni Quindi come potete vedere Però E' perfetto E questo in 4-5 anni Di concerti Ne avrà fatti Almeno direi 300 Quindi 300 volte Caricato Scaricato Botte Non botte Caricato Cosa sopra Eccetera Eccetera Ed è perfetto Questo è molto semplice Funziona come gli altri Lo apriamo in questo modo E Mamma mia È un po' sporco Avrei potuto pulirlo Per questo video Ma non lo farò Perché così vi faccio vedere Che se si usa Si consuma Ma non si rompe Quindi Prendete Le vostre aste Tutte le vostre aste E Andate a posizionarle All'interno Dell'hard case Quindi Pigliate questa Ovviamente Anche questo Ha le ruote Quindi Siete tranquilli Non dovete portarlo Proprio di peso Andate a mettergli tutto Adesso metto tutto Un po' così Velocemente Poi ognuno di voi Lo fa Come meglio crede Consiglio Il charleson Svitatelo Svitate questa parte sopra E non mettetelo così Nell'hard case Perché altrimenti Rischiate che questa Particina Che questa Particina Sopra qua Si svergoli Un po' Non so se svergoli Sia italiano O no Ma comunque Almeno Ci sta meglio Vedete Facciamo così Metto anche Il clutch Del mio Charleston Vado a prendere Quest'asta La metto dentro Come potete vedere Ci sta tutto Ovviamente Se poi voi avete Meno aste Esiste anche Un hard case Più piccolino Per le aste Se avete più aste Esiste l'hard case Più grande Cioè più che altro Più lungo Di questo qua Secondo me Questo è Il compromesso Perfetto Perché ci sta in macchina Non rompe le scatole Ci stanno tante cose All'interno Potete mettergli Veramente Quello che volete Qui vado A svitare Anche questa Sta qua Tic Ecco qua Siete a posto Abbiamo messo questo E via Ho smontato Tutta la mia batteria Ah Mi sono dimenticato Però Le gambette Del timpano Ecco qua Quindi Direi che Arcase Ha superato Alla grande La prova Non era una prova Però l'ha superata Comunque alla grande L'esame Ecco Ha superato L'esame Quindi ragazzi Eccomi qua Con Prima avevo la batteria dietro Ancora da smontare Tutto quanto Eccomi qua Con tutta la batteria Smontata Con tutti i miei Aircase Quindi ce ne sono un bel po' Ovviamente Perché ho voluto Prenderne un po' Per riuscire a capire Quanto potevo smontare Quante cose Si potevano fare Con Aircase Ho capito Che si può fare tutto Perché esiste In qualsiasi misura Qualsiasi tipologia Di grandezza Anche per quanto riguarda Le casse Per quanto riguarda Le profondità Per i piatti Esistono un Aircase Da 22 pollici Più grandi Più piccoli Eccetera eccetera Le aste ce ne sono Di un sacco di tipi Ci sono i set Più che altro Quindi se trovate Il set Aircase Con le vostre misure perfette Pigliatelo Perché Pigliate quello E non gli Aircase Separati Perché ovviamente Con i set Come al solito Si risparmia Quindi Io con questo Voglio ringraziare Strumentimusicali.net Ecco la scatola qua Allora la prendo Strumentimusicali.net Per avermi mandato Questi Aircase Qui sotto In descrizione Trovate tutto quanto Quello che vi serve Per andare sul sito Di strumentimusicali.net Per capire Prezzi Grandezze Cose Tutto quanto Tutta la disponibilità Anche E basta Io con questo Vi ricordo Che se vi va Di iscrivervi al canale Si No se vi va Iscrivetevi al canale Mettete like Andate sul mio sito Per vedere tutti I miei corsi Tra l'altro Sono uscito uno Da pochissimo E basta Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Noi ci vediamo Noi ci vediamo